Sono nato a Firenze, vivo a Firenze e ancora ogni giorno mi meraviglio di quanto è bella questa città. Mouvon si trova in una delle piazze più belle di Firenze e probabilmente quindi anche nel mondo, Piazza San Giovanni, di fronte al Battistero e al Duomo. Mouvon è un negozio di dischi di vinili con più di 6.000 etichette, dove però c'è anche una vasta offerta di cocktail, di birre e di food per una clientela internazionale ma anche del posto. Ho realizzato un cocktail che si rifacesse un po' a un French 75. Abbiamo una parte di gin insieme a un estratto di melograna fresco e uno sciroppo al miele salato, con un top di Prosecco Doc, una bolla che ci sta benissimo perché rimane forte e vigorosa dentro a questo drink. Ci troviamo in uno dei posti più belli del mondo, con una clientela internazionale che riconosce e apprezza naturalmente il Prosecco Doc. Fin da bambino avevo il sogno di avere un mio locale o di lavorare nei locali affascinati da questo mondo. Ho iniziato una quindicina d'anni fa in tutta una serie di bar importanti fiorentini, finché da un anno sono approdato nel gruppo Valenza, nello specifico Almovono. Non so bene che cosa mi ha attirato veramente, probabilmente tutto il fascino e la magia che si respira dietro e davanti a un bancone.